Un attimo, Simone, ma io... Grazie mille, Simone, molto gente. Ma grazie mille, un cazzo, te l'ho detto io, ti invio! Vai, Luca, ma vaffanculo! Ma Simone ti usa addosso da tre e poi a me dici che ti tratta male e lui ti tratta bene. Luca, vaffanculo! È due anni che ti busto! È due anni che ti busto! Carmo, carmo! Cosa da tassiera per muoverti? Ok. Mi fricci da tassiera. Ok, mi metto con la faccia. Sì, ma... Ah, col trackpad! Che cazzo cambia dal mouse? Non c'è... Cambia un cazzo! Sì, le frecce del... Fammi vedere! Devo bannare? Luca, se ne ho 10 minuti non giochi, ti mi sa baccaglia la pia, eh? Vai giù! Le frecce! Le frecce! Quelle piccoline che hai! C'è la stessa tassiera tua del cazzo! Le frecce... Sì, quelle lì, quelle lì, vai giù! Ci vanno andando su e giù nel gioco! Non ci vanno! Allora, aspetta, prova a usare tab, tab. Magari con tab riesci a slidare su... Bravo, sì. No, basta. Ma butta quella tastiera! Buttala! Non è stato al granato! Non riesco! Fai alt tab e metti il... Ma ancora? È 10 volte che faccio il tab, mi si chiude tutto! Fai solo tab, fai solo tab! Non dire chiudere! Non ti si chiude un cazzo! Ti si appassa sotto, non si chiude nulla! Tab! Ma tu gli hai fatto mettere questa risoluzione! Premi alt invio! Sì, Dado l'ho fatto mettere! Prima in 4K funzionava! Perché pensavo che non gli facesse sto problema! Metti alt invio! Ok! Guardatina volante! Inglese e italiano! No! Non metà schiere e inglese e italiano! No, no, no! No, no! Non è quello che dovrebbe succedere! Dovrebbe aprirsi full screen! Ma già è full screen! Ma quel coglione di Dada ti ha fatto mettere la risoluzione stupida! Ma perché porco tu la gente mi diceva! Stimando in 4K! Ha ha ha! Gek W! Metti... Fai alt invio! L'invio è invio! Bannovi! No, Dado no! Di fianco al tuo trackpad c'è il tasto invio! Fremi alt invio insieme! Bravo! Sì, ma adesso lo vedo in verticale! Ok, però funziona! Funziona però, no? Opzioni! Vai, opzioni! Bravissimo! Giamo così! No, no! Ah, ho capito! Funziona, funziona, vedo! Vai su options! Vai su options! Non giocare così! Ma che vuol dire? Ma che stai su un telefonino? Non andare a giocare! Non giocare di mettere gioca! Devi mettere opzioni! Vai su screen! Ho vinto campionato di soluzione! Qua... Screen! Screen! No, Lario, tranquillo! Screen! Metti borderless! No exclusive! Perché hai messo mode! Metti borderless! Ok, borderless! Fatto! Metti 4K e borderless! 4K! No, no! Metti 4K! No, no! Perché c'è il monitor de merda! Metti 4K! No, data funziona, hai visto? Bastava solo che... Un attimo Simone, ma aiuta... Grazie mille Simone, molto gente! Ma grazie mille un cazzo! Te l'ho detto io! Ti invio! Ma Luca, ma vaffanculo! Ma Simone ti usa addosso da tre! E poi a me dici che ti tratta male, lui ti tratta bene! Luca, vaffanculo! E' due anni che ti busto! E' due anni che ti tuto! Carmo! 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 Ma cosa? Tutto! 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 Ti ha dato tutto! Tutto! E te mi grazie! Via! Due anni che ti busto! Avevi tre spettatori bugozzi! Non ti si inculava di pezza! Adesso sei la sua gallina dalle uova d'ora! Fai cacare! 9 mesi che stremmo, Dario! Non è possibile! Non è possibile! Tutti! Ti conoscono tutti! Non è possibile! Non è stremmo da un mese, Nanni! Si va a letto? Via! Teganino! Ma è un clickbait! Oh, oh, oh! Ma che tier list di merda è? Poche live di merda, mamma mia! Ho mi svegliati!